Abbiata anche in Abruzzo la mobilitazione nazionale Portiamo le imprese fuori dalla pandemia, indetta da confesercenti per dare voce attraverso iniziative in tutte le regioni italiane alle necessità e alle richieste delle attività economiche, come sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di ripartire in sicurezza. Nel caso della nostra regione ci siamo mossi per territorio e per classificazione merceologica, quindi per merceologie avremo praticamente tutte le merceologie da ascoltare e tutti i territori regionali, quindi le quattro province da ascoltare, quindi i nostri associati possono dire la loro, sono istanze che poi noi porteremo ai tavoli del nazionale. Quali sono secondo lei le iniziative che bisogna mettere in campo nell'immediato? Sono tre, ristori immediati, per quanto riguarda i ristori tengo a precisare che dobbiamo ovviamente sostenere le attività chiuse in primis e queste attività ovviamente devono essere messi a regime agevolato e soprattutto i ristori devono essere dati concretamente per le perdite avute e soprattutto anche per le spese ottenute e fatte e non per il 30% in meno di fatturato come in questo momento ci si sta muovendo. Poi una moratoria per tutto quanto riguarda la parte fiscale per dare la possibilità almeno alle piccole e micro imprese di ripartire, continuare la moratoria sui mutui e un accesso al credito agevolato sia per tramite del fondo di garanzia che per tramite dei confidi che abbiamo a livello regionale. Un'altra cosa molto importante sono le tempistiche, bisogna intervenire assolutamente nell'immediato. Contiamo che le attività sono chiuse da un anno, la regione Abruzzo come abbiamo detto più volte è stata la regione più colpita con i giorni di chiusura, quindi è la regione che avrà avuto il numero di chiusure più alto di tutta l'Italia e quindi dobbiamo avere un ristoro immediato a queste attività. In questo momento abbiamo restrizioni troppo importanti per le chiusure, quindi anche qui nel caso continuassero questi colori dobbiamo allungare le orari di apertura, ovviamente rispettando sempre i protocolli del Covid, quindi che ha un allungamento degli orari di apertura, rispettando i protocolli ma quantomeno che si possa andare un po' più in avanti con l'orario. Proposte che sono state inserite all'interno di una petizione online che è possibile sottoscrivere sul sito www.confesercenti.it